Assessore Ibbini Castelli di More Storiche del Friuli Venezia Giulia è una risorsa per il turismo e per l'economia. È una risorsa fondamentale, oggi ho avuto l'onore di partecipare all'Assemblea dell'Associazione dei Castelli, del Consorzio dei Castelli, ho avuto il piacere davvero di visitare uno di questi castelli. Sono una ricchezza che noi abbiamo l'obbligo, l'obbligo di mettere a denominatore comune, ne abbiamo diversi nella nostra regione, e di offrire ai nostri turisti. Fino ad ora queste ricchezze che noi abbiamo sono state poco promosse, sono state offerte in maniera a scartamento ridotto, io lo chiamo, e l'impegno nostro è quello di valorizzarle davvero in quella che sarà un'offerta comune di tutte le nostre ricchezze nel Friuli Venezia Giulia. Quindi riclassificare e rilanzare una promozione? Assolutamente sì, guardate, la nostra forza, sapete in cosa sta nelle tante ricchezze che noi abbiamo, altri paesi non hanno, altri paesi non ci possono copiare ciò che Madre Natura ci ha dato, ciò che la storia ci ha dato, noi abbiamo solo un obbligo, preservarli, conservarli e promuoverli. Anche perché i turisti moderni cercano qualcosa di più delle sole spiagge? Ma assolutamente sì, guardate, il Friuli Venezia Giulia deve, può diventare un centro per quello che sarà il turismo di nicchia, un turismo alto spendente, un turismo slow, lo chiamiamo slow anche, in grado di apprezzare cultura, storie e tradizioni.